Buongiorno, oggi vediamo alcune leggi che riguardano il moto dei pianeti, quindi ci siamo spostati a grandissime dimensioni. Vediamo cosa succede nel nostro sistema solare, le leggi di Keplero. Ora, come funziona tutta la musica? Cominciamo storicamente in un'epoca vicina alla nascita di Cristo, siamo al 100 d.C., con la concezione di Tolomeo, il quale pensò che, e questo fu decisamente apprezzato dalle persone che abitavano la terra in quel periodo, poche si occupavano di queste cose, che la terra era al centro e il sole le girava intorno. Questa concezione ha implicazioni filosofiche e religiose di ogni tipo, ma noi non ci soffermeremo. Passano molti anni, arriviamo nel XV secolo e un certo Niccolò Copernico, che arrivava dalla Polonia, quindi Europa, cominciò a mettere in dubbio questa questione e insieme al signor Keplero e successivamente trovarono le leggi che gestiscono questa partita. Innanzitutto si scopre che non è così, ma è il sole che sta al centro e la terra gli ruota intorno. Come ruota la terra intorno al sole lo vedremo. Però questo è un passaggio rivoluzionario, no? La terra non è più centrale, se vogliamo mettere anche dal punto di vista religioso e filosofico, l'uomo non è più centrale, ma siamo così succube del sole. La prima concezione fu quella di un pianeta, dei pianeti che compiono un moto retrogrado, cosa vuol dire? Che loro procedono a un certo punto, hop, tornano indietro e poi ritornano a procedere. Fanno una specie di ricciolo, tornano un attimo indietro. E secondo Tolomeo questo moto era un moto dovuto alla composizione dei moti circolari. Quindi di fatto eravamo con la terra al centro e tutta una serie di questioni relative agli altri pianeti, insomma tutta una questione diciamo oggi sbagliata. Perché c'era questo moto retrogrado? Bene Copernico successivamente ti mostrò e giustificò il fatto che il moto retrogrado, questo moto di ritorno all'indietro, torno indietro, torno indietro eccetera, era essenzialmente dovuto al fatto che chi guarda è in movimento, quindi non è fermo. E questo giustificò anche l'ipotesi che la terra non fosse al centro. Il nostro punto di osservazione è anch'esso in movimento. Intorno a cosa? Sappiamo oggi che è intorno al Sole. La prima legge di Keplero quindi viene formulata, vediamo nel XVI secolo, questo tedesco Giovanni Keplero disse che dimostrò che le orbite descritte dai pianeti intorno al Sole non sono dei cerchi, ma sono delle ellissi il cui Sole è posizionato in uno dei due fuochi delle ellisse. Qui cosa c'è? Nulla di nulla, va bene? Non c'è niente. La posizione in cui il pianeta è più vicino al Sole, questa posizione qua si chiama perielio, la distanza è minima, questa distanza qua ci dice che siamo nella distanza maggiore, quindi questo posto qua si chiama afelio, e questa è la nostra orbita, il semiasse maggiore, il semiasse minore, conosciamo la teoria dell'ellisse. Nel nostro caso il semiasse maggiore è 1,5 per 10 o 11 metri e un'eccentricità, quindi la distanza dal fatto che sia un cerchio, quanto è diverso dal cerchio, è bassissima, quindi praticamente la nostra orbita è un cerchio, una circonferenza. La modalità di percorrerla è descritta dalla seconda legge di Keplero, il percorrere l'orbita, il pianeta va sempre alla stessa velocità? Cioè è un moto circolare uniforme? Si pensava di sì, in realtà non è così, il raggio vettore, ovvero questo raggio qua che unisce il pianeta con il Sole, è un vettore, chiamiamolo anche vettore posizione, quando si muove spazza un'area e se siamo in posti diversi, per esempio da qua a qua spazzerà quest'area qua, da qua a qua spazzerà quest'area qua, eccetera, lo facciamo in un certo modo. Le aree in un secondo, in un mese, in un anno, che vengono spazzate sono sempre uguali. Il raggio vettore unisce il Sole al pianeta, l'area che questo raggio spazza, spazza vuol dire come se passasse una scopa, muovendosi, a parità di tempo è sempre la stessa, quindi le aree, quest'area verde è uguale a quest'area rossa, ma come potete vedere quest'area rossa ha un arco molto più lungo di questo arco qua, quindi deve, in un mese deve fare lo stesso percorso, quindi questo ci mette un mese ma fa un tratto molto corto, piccolo spazio e stesso tempo. Qui grande spazio, stesso tempo, vuol dire che in questo posto la velocità è molto più elevata che in questo posto qua, quindi il moto del pianeta è un moto lento qua giù, arriva da questa parte e aumenta la velocità, poi lento di nuovo e aumenta la velocità, lento, eccetera. Al perielio, di qua, abbiamo un'alta velocità, all'afelio abbiamo una bassa velocità, va più piano. A questo punto la domanda è ma tutti i pianeti vanno alla stessa velocità, tutti all'afelio vanno quella velocità e tutti al peri? La risposta è no, esiste una legge per ciascuna delle loro velocità. Questa legge viene chiamata la terza legge di Caplero, che mette la divisione tra il cubo del semiasse maggiore e il quadrato del periodo di rivoluzione, ricordiamo che la rivoluzione è intorno al sole, il periodo e il tempo che ci mette per fare un giro intorno al sole, è uguale per tutti i pianeti, quindi è costante. In realtà questa costante, che noi chiamiamo K, è la stessa per ogni pianeta sì, ma per un certo sistema solare, perché dipende dalla massa del sole o dalla massa di una stella di un altro sistema solare, quindi questa costante nel nostro sistema solare è sempre la stessa. Quindi i pianeti lontani, perché è direttamente per presentare il cubo della distanza, vanno molto veloci, molto lenti, non importa, ci mettono comunque un tempo superiore a fare un giro intorno al sole. Se la terra ci mette 365 giorni, giove ce ne mette molti ma molti di più. Ok? Buona giornata.